partiamo con la nuova settimana e subito lunedì con l'aggiornamento di politica e in questo caso gilberto trombetta buongiorno invece del martedì il lunedì ben trovato gilberto ben trovato carlo ben trovati a tutti gli ascoltatori giornalista economico politico membro del fronte sovranista italiano poi parleremo anche di quello perché oggi ci dedichiamo ci concentriamo proprio sulla politica parleremo anche di economia ma diciamo incidentalmente perché facciamo una disamina proprio sulla situazione attuale direi gilberto parliamo subito della manifestazione a milano dei gilet arancioni qualcosa si muove in italia sembra sembra quasi strano la manifestazione promossa dall'ex generale pappalardo polemiche sull'assembramento e e sull'assenza delle mascherine si vede che ormai il sistema vuole che in italia più che manifestazioni di protesta si facciano riunioni aziendali mi sembra a questo punto no basta poco per 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 dire che siamo fuori dalle righe un tuo commento assolutamente beh io sono d'accordo in grandissima linea di massima ma come sai spesso quando è possibile mi piace concentrarmi un po sulle sfumature di grigio perché appunto la realtà non è quasi mai tutta bianca o tutta nera quindi sicuramente come abbiamo detto più volte un'emergenza sanitaria che c'è stata infatti è stata affrontata da tutti i paesi del mondo da quelli socialisti a quelli liberali a quelli più rigidi o meno insomma è stata utilizzata e viene tuttora utilizzata in parte per portare un avanti un'agenda che non è strettamente legata all'emergenza sanitaria che ovviamente sta scemando se non è del tutto scemata e e quindi bisogna stare attenti perché per il rischio di combattere una deriva che è palese ed evidente far passare agende contro l'interesse del popolo poi come abbiamo anche questo detto altre volte se ci fate caso ogni crisi che si manifesta che sia economica o di altro tipo le soluzioni proposte da chi sta nei posti di comando vanno sempre nella stessa direzione anche se il problema a monte è diverso già questo dovrebbe essere un campanello d'allarme però per andare giustamente contro chi non vuole fare i nostri interessi anzi per seguire un'agenda contro gli interessi della stragrande maggioranza del popolo e dei lavoratori c'è il rischio di passare non dalla parte del torto però appunto di dipingere tutto in maniera polarizzata bianco e nero e quindi allacciandomi a quello che dicevi te in apertura la manifestazione di milano teniamo conto che la lombardia per una serie molto lunga di motivi che partono dal governo fino alla gestione della regione ha avuto una difficoltà durante la crisi sanitaria non solo unica in italia direi unica nel mondo quindi per quanto loro provino a far passare un'agenda a noi non favorevole in effetti assembramenti di massa di quel tipo a milano forse non sono la risposta migliore da dare anche perché ti rendi attaccabile da un punto di vista dove con un minimo più di attenzione potresti non essere attaccabile svilendo poi magari anche battaglie giuste che vengono portate avanti o facendo concentrare la comunicazione su aspetti secondari ecco ma secondo te quindi la scelta di milano non è stata molto oculata diciamo per fare la manifestazione è stata intenzionale ma col seno di poi ma forse andava bene anche anche perché so che le manifestazioni si sono state un po in tutte le città d'italia non solo le gile arancioni anche per esempio delle mascherine tricolori per esempio che sono una realtà diversa è la modalità di svolgimento non tanto la scelta di milano come posso perché ripeto ti rendi attaccabile anche da un punto di vista oggettivo perché salvo che non si si rientra in quelli che il virus non esiste non è mai esistito è solo un complotto non che sia stato sopravvalutato sottovalutato si presta il fianco poi a critiche anche in parti legittime ripeto un numero di morti clamorosi la lombardia ce li ha avuti milano è stata in difficoltà si poteva fare la manifestazione magari con assembramenti con un po più di mascherine non che io sia un fan delle mascherine all'aria aperta ma se sei in diecimila attaccati forse qualche precauzione in più anche solo per non prestare il fianco a critiche strumentali e questo non lo dico neanche appoggiando particolarmente dal mio punto di vista né pappalardo né gila arancioni che secondo me al di là del discorso degli assembramenti che può o meno lasciare il tempo che trova non mi trovano tanto molto concorde su determinati aspetti non secondari ecco ricorderei sempre che pappalardo è uno di quelli che quando stava in parlamento ha votato i trattati di mastri per capire ecco quindi alla fine sì bene o male sono tutti anche quelli che lì che attaccano i parametri di maastricht piuttosto che il pareggio in bilancio il fiscal compact eccetera a suo tempo c'erano insomma quindi adesso bisogna sempre stare a mio avviso un po attenti da coloro che palesemente cercano un posto al sole naturalmente questo senz'altro e la per quanto riguarda la manifestazione di domani ecco la nostra disamina viene proprio nell'immediata vicinanza proprio alla vigilia del 2 giugno appunto la manifestazione organizzata dalla Lega Fratelli d'Italia e Forza Italia potrebbe rivelarsi un boomerang questa questa manifestazione mi dà tanto l'impressione di una quasi come si dice nei gentleman agreement quasi un atto dovuto no nel senso qualcosa bisognava fare ma saranno manifestazioni che con le mascherine con un numero di persone estremamente limitato infatti Salvini stesso non l'ha per nulla diciamo promozionata ed incentivata per evitare gli assembramenti quindi per non prestare il fianco no cioè quando sono manifestazioni così dove c'è un numero di persone estremamente limitato non si può manifestare non si può dire niente di particolare eccetera e cosa cosa servono sì l'impressione che sia stata un po' come l'occupazione di qualche ora un giorno e mezzo quello che è stato del Parlamento che siano cose fatte non tanto per gli obiettivi che possono oggettivamente essere raggiunti quanto per mandare un messaggio alla propria base elettorale che legittimamente chiedeva all'opposizione di fare l'opposizione di fare qualche cosa di dare un segnale forte e quindi si intraprendono queste iniziative che temo a mio avviso siano più un po' uno spot elettorale che non iniziative che possano portare a chissà cosa a maggior ragione come sottolineato te Carlo in queste condizioni date che prima o poi finiranno eh io di questo sono sicuro non dico che a settembre sarà tutto normale ma si potrà tornare a manifestare come si manifestava prima a fare iniziative pubbliche come si faceva prima e poi questo so che molti non saranno d'accordo ma per onestà lo devo dire pensandolo ehm ne ho fatte tante in vita mia di manifestazioni di vario tipo ma al di là di quello che ho fatto io nella mia vita consto semplicemente da spettatore che anche grossi movimenti di protesta al di fuori dell'Italia i gile gialli per esempio in Francia in Grecia è successo di tutto insomma a livello di manifestazioni anche se qua se ne è parlato poco se non c'è poi una ricaduta politica organizzata ok ti fanno sfogare per carità quello sempre ben venga ma sono molto fini a se stesse poi non si ottiene nessuno dei risultati preposti cioè la manifestazione è una valvola di sfogo non va né limitata né scoraggiata ci mancherebbe altro ma se non c'è poi una ricaduta politica immediata a quelle richieste e già da solo la come dire l'inquadramento politico non garantisce risultati ma le proteste spontaneistiche o disorganizzate ripeto come i gile gialli noi ce le sogniamo ma cosa hanno ottenuto poi in concreto? Sì chiaro poi la la manifestazione di domani mi dà un po' la sensazione che si è fatta proprio per dire in favore di telecamera più che altro perché come dire alziamo il dittino per dire ricordatevi che ci siamo in attesa in attesa di tempi migliori anche per 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 l'opposizione tra l'altro un e qui saltano fuori le anime contrastanti anzi opposte all'interno della del centrodestra ci saranno appunto domani la salvini e la meloni che daranno evidentemente addosso all'europa ma entra ci sarà tagliani e delegato da berlusconi e che invece l'europa la difenderà berlusconi non c'è perché rimarrà in costa azzurra dove è alloggiato in una delle sue ville da quando è iniziata la quarantena tra l'altro. Esattamente questo come avevamo accennato se non sbaglio un po' di tempo fa le due anime che vediamo a mio avviso palesemente inconciliabili perché su alcuni punti non ci può essere una sintesi politica tra il bianco e il nero è vero che c'è il grigio ma non è una sintesi tra bianco e nero l'europeismo sfrenato di forze italia di berlusconi e di italiani mal si sposa anche con quello che può essere non dico un anti europeismo clamoroso perché anche nella lega abbiamo evidenziato più volte delle correnti dei pesi dei pensieri. Chiamiamolo altro europeismo o comunque sia un anti europeismo non proprio convinto al cento per cento da parte della stessa meloni tra l'altro non solo della lega cioè questo è un problema presente in tutte e due le anime meno europeiste o anti europeiste del centrodestra meloni proprio l'altro giorno ospite adesso mi sfugge scusami uno dei programmi però di punta delle tv generaliste ha detto fratelli d'italia non vuole uscire né dall'euro né dall'unione europea poi ripeto l'ha detto lei erano parole sue perché non le devo prendere per buone mentre la lega un po' un divaga in base a chi senti parlare e lo stesso salvini preso come portavoce diciamo come sintesi delle varie correnti della lega insomma è passato dal basta euro tour atteggiamenti più tiebiti dai diciamo ecco guarda adesso li riprendiamo questi argomenti e perché volevo sottoporre l'attenzione tua e dei nostri ascoltatori i sondaggi che sono stati pubblicati in questo weekend sulle intenzioni di voto degli italiani e che riassumo allora la lega rispetto all'europea del maggio 2019 passa come intenzione allora 34,3 per cento alle europee del del 2019 intenzioni di voto stimate nei sondaggi 24.3 movimento 5 stelle 2019 al 17.1 e il 16.7 adesso il pd 22.7 e nel 2019 21.1 adesso fratelli d'italia invece un grandissimo boom dal 6,5 del maggio 2019 al 16,2 stimato adesso allora quello che si può notare allora diciamo che so che non sei un grande amante dei sondaggi ai quali non diciamo non dai un grandissimo credito però sicuramente rivelano sempre delle tendenze no e in la lega del 34,3 al 24,3 quindi vuol dire dieci punti secchi in meno magari potranno essere otto magari potranno essere nove eccetera però il la caduta è evidente insomma no cosa cosa paga l'ultimo anno sicuramente la crisi degli ultimi mesi ha un po' depotenziato beh è anche vero alla premessa salvini viene da una campagna elettorale ben condotta ma ininterrotta di due tre anni qualcosa del genere quindi fisiologico a un certo punto che ci si scarichi e quando si scarichi si è meno efficaci l'elettorato dal suo punto di vista è sempre un po' più scalpitante perché comunque la crisi si avverte veniamo ripeniamo da più di dieci anni di crisi che non abbiamo mai superato siamo alle soglie di un'altra dell'ennesima nuova crisi e che peggiorerà la situazione aumenterà il numero di poveri di disoccupati di imprese chiuse questo molte persone lo sanno lo avvertono stanno vivendo sulla propria terra quindi c'è voglia di risposte e di risposte decise non tanto cerchio bottiste non tanto inquadrate e in questo caso poi ha funzionato anche il lavoro migliore che è riuscito a fare nonostante la crisi la meloni perché è vero che c'è stato un crollo un crollo o almeno nei sondaggi un forte calo della lega ma è altrettanto vero che come sotto un'idea c'è stata una grandissima crescita della meloni e non ci vuole tanto immaginare che i flussi di travato siano stati sia stata molto brava la meloni a cogliere una parte di insoddisfazione di una base elettorale della lega riuscire a convogliare le preferenze su se stessa insomma certo sicuramente ritieni che a salvini manchino i comizi manchino i selfie può essere lui che ormai una parabola anche discendente può essere un momento di stanca io se sia all'inizio di una parabola discendente definitiva non te lo so dire ti dico la verità è possibile ma può essere anche solo un momento di stanca dovuto a un insieme di congiunture in parte può pagare anche questa ambiguità o ambivalenza se non voglio dire sui temi europei se non direttamente sua delle varie parti della lega ovviamente io non ti so dire il voto anti europeista all'interno della lega non i politici ma l'elettorato che peso ha sul totale dei voti della lega non so se sposta tantissimo sposta un po' però quella parte insomma potrebbe cominciare a rivelarsi un po' insofferente e inoltre come abbiamo detto spesso c'è anche un altro fattore che magari incide in percentuale minuscola è vero che sempre più persone sempre più italiani sono diventano insofferenti nei confronti dell'euro dell'unione europea ma con l'eventuale riconquistata sovranità dipende cosa ci vuoi fare perché se io sono un lavoratore e vuoi tutelare anziché grandi capitali esteri grandi capitali italiani vuol dire che io lavoratore sarò fregato anziché dalla multinazionale straniera dalla grande impresa italiana ma a me a fine mese non cambia nulla quindi credo che alcune persone non ti so dire se tantissimo poche ma ho questa percezione cominciano anzi anche a chiedersi sì ok lottiamo contro l'unione europea e l'euro ma che ci dobbiamo fare che ci volete fare con la sovranità eventualmente riconquistata un nuovo iri un nuovo stato che interviene nell'economia o liberalizzare ancora di più per favorire i soldi noti solo nella cerchia italiana sì perché ritorno a una moneta sovrana vuol dire tutto ma non vuol dire anche niente dipende appunto che utilizzare volevo guarda prima di riprendere l'argomento volevo ritornare un attimo ancora su salvini secondo te ti faccio una domanda un po così provocatoria secondo te in questi anni qua salvini è stato un po sopravvalutato come politico tenderei a dire di no perché per lui parlano i numeri nel senso che ha preso una lega non dico sul letto di morte però una lega fortemente ridimensionata comunque era il 3 per cento non è il punto di morte ma politicamente portandola almeno nei sondaggi non nelle ultime elezioni ma ha raggiunto un picco di preferenze stando ai sondaggi vicino al 30 per cento è un'impresa titanica da un punto di vista politico è stato sicuramente molto bravo ad annusare l'aria che una dota una dote molto importante per un politico a capire il malcontento favorito sicuramente da uno da una parte politica quasi tutto il centro-sinistra ma non solo anche forza italia che per mesi anni questa crisi che gli italiani segnalavano l'hanno negata chiaro quindi sono andati molti anche che nella vita loro non avevano mai votato lega o addirittura provenienti dall'altra parte sono finiti a votare i primi che gli hanno detto come storicamente succede guardate non siete matti avete ragione c'è una crisi siete stati colpiti bisogna trovare una soluzione volevo dirti comunque gilberto che ci sono dei politici che sono bravissimi dei campagne formidabili ricordiamo berlusconi per esempio ma non necessariamente essere un grande campagne vuol dire è automaticamente essere un eccellente o un ottimo politico magari sei bravissimo a fare la campagna elettorale e salvini in questo è bravissimo poi appunto lasciamo la valutazione agli ai nostri ascoltatori la lancio così un po come 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 spunto di riflessione ripeto essere un grande un grande animale da campagna elettorale non vuol dire necessariamente essere un grande un grande politico la la butto lì la butto lì così volevo scusami su questa tua considerazione solo una piccolissima cosa anche questo mio personale punto di vista magari molti ascoltatori non lo condivideranno ma per me è importante io capisco il fascino del grande comunicatore o del grande politico quando mai le due cose coincidano mi ne rendo conto ma maggior ragione per tutte le cose che noi raccontiamo di settimana in settimana il voto si dà al partito mai alla persona perché uno può essere anche un grandissimo una grandissima bestia da palco però poi il voto lo dai al partito col suo programma è quello che fa fede i testimoni alle grandi comunicatori sono utili per prendere il consenso ma l'elettore dovrebbe anche farsi qualche domanda e più e concentrarsi di più sul partito la sua storia e sul programma perché è quello che poi si dà forza e voto non la persona hai perfettamente ragione però la politica in questi ultimi anni poi c'è stato un processo veramente di radicalizzazione e si è molto personificata no quindi c'è il leader che fa tutto fa tutto lui c'è la fondamentalmente comunicazione e quindi si è persa proprio di vista il concetto della del partito ci sono proprio le le prime donne e questo con tutte le le conseguenze le derive che questo comporta per quanto riguarda la lega allora la settimana scorsa il programma della annunziata mezz'ora in più se non sbaglio il governatore della lega zaia ha detto molto chiaramente che la lega non vuole uscire dall'euro mi sembrano che siano affermazioni non sono pretattiche questa questa credo che sia un convincimento tra l'altro devo anche evidenziare una cosa zaia ovviamente parla come governatore del veneto secondo me c'è da un po da spatare un mito no perché si dice veneto repubblica serenissima una regione autonomista per in italia per antonomasia ma il veneto il tessuto imprenditoriale del veneto se si parla con i commercialisti stessi te lo possono confermare l'imprenditore medio veneto non è assolutamente favorevole all'uscita dall'euro anzi tutt'altro vuole rimanerci dentro perché teme uscendo dall'euro per una sua io ritengo distorsione della della realtà teme di perdere fondamentalmente l'aggancio con l'estero quindi con l'esport e in particolare con la germania quindi io direi spatiamo un po questo luogo comune che il veneto è per l'uscita l'imprenditoria veneta è per l'uscita dall'euro non è assolutamente vero e in questo senso zaia incarna perfettamente lo spirito diciamo della della territorio che rappresenta noi siamo a vicenza tra l'altro quindi nel cuore del veneto ecco ho fatto questa premessa dammi la tua disamina gilberto sono d'accordo anche questo l'abbiamo sottolineato diverse volte la doppia anima della lega no e che non non è solo una questione di politici ma i politici rappresentano il territorio da cui provengono ci sono almeno due basi elettorali molto diverse all'interno della lega una più fortemente anti europeista a no euro e una invece molto legata al rapporto con l'europa al mercato unico europeo all'euro perché come abbiamo detto purtroppo scelte imprenditoriali sbagliate o miopi hanno portato a puntare molto di più sull'export e non solo neanche sull'export di prodotti finiti italiani ma sull'export di componentistica per i grossi produttori del centro europa quindi un po molta buona parte dell'industria del nord si è ridotta a fare la conto terzista per la germania per esempio scordandosi del mercato interno di quant'altro l'unica cosa che aggiungo in realtà zai ha detto non non vuoi uscire proprio dall'unione europea e questa è una cosa che in realtà chi vuole continuare legittimamente a tenersi i voti degli anti europeisti dice ma fondamentalmente nel programma della lega non c'è mai stato scritto di voler uscire dall'unione europea vero c'è scritto che si vuole cambiare l'europa a cambiare tutti i trattati e che se non ci si riesce non si se non ci si riuscisse di tornare un'europa pre maastricht ma tornare un'europa pre maastricht di fatto vuol dire uscire dall'unione europea quindi è vero che zaia non ha prettamente smentito il programma della lega dove non c'è mai scritto la lega vuole uscire dall'unione europea ma altrettanto vero che dire la lega non vuole uscire dall'unione europea questa è la maggioranza del partito e dire se l'europa non cambia forse prendiamo in considerazione anche l'uscita beh non è proprio la stessa cosa con tutta la buona volontà certo c'è da notare tra l'altro ehm borghi e bagnai che sono ovviamente quelli per l'uscita dalla dalla dall'euro all'interno della lega borghi in particolare i giorni scorsi ha polimizzato con i piccoli partiti sovranisti no riferendosi quindi al vostro stesso fronte sovranista italiano evidentemente a vox italia e ad altri partiti che sono ormai nascenti è abbastanza significativo questo questo sfogo di borghi no vuol dire che evidentemente comincia a sentire che c'è un po il piatto sul collo e e probabilmente è consapevole ha manifestato in conquisto eh diciamo con questa eh con questa uscita un po così eh risentita il fatto che probabilmente si sente all'interno della lega come nella corrente di minoranza no? Ora non so se si sente nella corrente di minoranza ma se c'è non dico una guerra però uno scontro tra due modi di vedere diametralmente opposti dell'Europa è ovvio che ogni parte non voglia perdere neanche una briciola della propria potenziale o reale base elettorale io questo me ne rendo conto una cosa fa un po ripeto è normale in politica non c'è niente di strano ed è legittimo ovviamente fa un po storire che una forza grande come la lega al momento si occupi di realtà che vengono prese in giro per essere cosiddette zero virgoliste cioè che alle elezioni in cui si presentano ancora prendono lo zero virgola perché sono forse giovani e piccole tra l'altro l'altra cosa che io e si allaccia a quello che dicevamo prima potrà anche esserci forse una convergenza contro l'Unione Europea nel senso se la lega un giorno dirà mai noi vogliamo uscire dall'Unione Europea appunto su questo noi non avremmo nulla da ridire però come dicevamo prima è come una televisione è uno strumento l'uscita dall'Unione Europea cosa ci vuoi fare con l'uscita dell'Unione Europea cioè quindi anche l'accusa che noi andiamo a togliere voti alla lega quando a parte che voti alla lega li leva la Meloni è evidente quindi magari me la prenderei tra virgolette con la Meloni non certo con noi ma anche fosse vero che qualche anti unionista che ha votato lega recentemente iniziasse a votare per i piccoli partiti sovranisti cioè per l'uscita dell'Unione Europea e l'applicazione della Costituzione del 48 ma uno che vuole un nuovo IRI più statalismo più accentramento statale l'unità d'Italia ma non voterebbe mai Lega o la vota proprio in assenza di un'alternativa clamorosamente diversa perché ripeto ci divide tantissimo dalla Lega non abbiamo un elettorato tutto sommato simile perché siamo un partito popolare come loro ve lo vorremmo essere ma socialista e democratico per la Costituzione del 48 l'autonomia regionale la vediamo come il fumo negli occhi il decentramento come il fumo negli occhi dire come dicono spesso molti leghisti tra cui Salvini che il lavoro lo crea solo il privato e non il pubblico per noi è un'eresia quindi in realtà non è che andremo tanto a rosicare la loro base elettorale perché noi andiamo a occupare uno spazio lasciato libero da decenni che non è quello della Lega assolutamente ritornando ai sondaggi siamo arrivati a un paradosso ma è molto significativo che in pratica il 53% quindi la maggioranza ormai degli italiani è per l'uscita dall'euro mentre di fatto i partiti quelli che siedono in Parlamento alla fine sono tutti pro euro quindi siamo proprio una contraddizione veramente in un paradosso incredibile quindi la maggior parte di cui di questi italiani il 53% diciamo che in pratica dovrebbero sentirsi non rappresentati dalle forze in Parlamento sostanzialmente in linea di massima è così se si vede con un po' di lucidità il quadro politico offerto dal Parlamento italiano e dalle forze politiche presenti però purtroppo anche questo è normale ma un po' dispiace abbiamo notato questa polarizzazione costante del dibattito e dei temi che porta ad affrontare anche la politica un po' come un derby di calcio cioè con molto tifo e non voglio dire poca lucidità ma insomma poca freddezza su facebook poi guardi su facebook che ormai è molto seguito effettivamente porta molto il dibattito lì proprio ci sono la curva nord e la curva sud è una cosa incredibile veramente cioè hanno ognuno pensa di avere il 100% della ragione e gli altri e gli altri non hanno capito niente esattamente l'unica forza come abbiamo detto che prova a incanalare più o meno legittimamente una parte del dissenso anti unionista è la Lega appunto le altre forze sono tutte smaccatamente europeiste e la Lega pure però come abbiamo constatato al suo interno ha una parte non leggermente smaccatamente europeista che non vuole proprio sentire parlare di uscita né dall'unione europea né dall'euro poi ripeto quale parte prevalga io non lo so dire non ho la palla di vetro ma è innegabile che la Lega da questo punto di vista ha due anime diverse e nulla che le andiamo a recitare sempre i soliti. Poi tra l'altro sai appunto che abbiamo parlato prima dove ha affermato in maniera proprio perentoria che la Lega non vuole uscire dall'euro rappresenta il grosso della Lega non è il grosso della Lega non è rappresentato da Borghi e da Bagnai quello che incarna di più la Lega è sicuramente è sicuramente uno zaia. Io questo è quello che ti dicevo non ho numeri sui sondaggi interni sulla parte di elettorato della Lega quanto è più anti unionista e quanti è più invece per l'autonomia regionale le macro regioni e rimanere nell'Unione Europea. Guarda io posso anche prendere in considerazione che siano lo scontro sia effettivo perché c'è una sorta di equilibrio. Guarda della migliore delle ipotesi però poi ripeto dipende l'esito finale insomma e soprattutto se la Lega diventasse completamente anti unionista poi ripeto se vuoi uscire dall'Unione Europea per fare la deregulation come dice Salvini io un po' mi preoccuperei ma a parte questo ma ovviamente perderebbe un'altra parte dell'elettorato. Convincerebbe maggiormente quelli contro l'Unione Europea ma tutta quella base imprenditoriale elettorale che è il CDT del Nord Italia che non si pensa proprio a uscire dall'Unione Europea probabilmente smetterebbe di votare Lega. Facciamo una considerazione un po' veloce bisognerebbe in realtà approfondire sicuramente di più ma sul Movimento 5 Stelle cosa fa? Si scinde o molto più semplicemente realisticamente continueranno le fuoriuscite per creare nuovi soggetti politici come già sta avvenendo o aggregarsi a nuovi movimenti già esistenti. Cosa succede secondo te per la Lega? Di fatto è una scissione ex post, cioè la scissione si fa direttamente dal partito dall'interno e io direi che però tutti questi fuoriusciti stanno cominciando a dar vita o hanno intenzione di dare vita a realtà associazionistiche, partitiche, movimentistiche e quindi insomma non ci sarà forse una scissione vera che parte dall'interno del Movimento 5 Stelle ma continua ogni giorno questo stilicidio di uscite. Vi ricordate un tempo i 5 Stelle erano famosi per cacciare tutti quelli non allineati. Adesso non si caccia più nessuno perché escono tante di quelle persone, non dico che ogni giorno hai notizie di fuoriuscita ma giusto l'altro ieri dalla regione Sicilia ne sono usciti 5 e anche loro hanno creato la loro associazione per ora ma probabilmente diventerà un partito che si rifà come dicono loro più al Movimento delle Origini. Ha fatto così R20-20 con la Cugnall e altri due colleghi. Paragone già sta nel gruppo misto insieme ad altri 5 Stelle e probabilmente nel corso dell'estate annuncerà il suo nuovo progetto politico. Insomma è una cosa impressionante la fuoriuscita costante che si ha di politici da parte dei 5 Stelle che fa scopa col calo clamoroso dei consensi. Un'ultima considerazione comunque abbiamo visto il calo fortissimo della Lega rispetto all'anno scorso, abbiamo visto che ormai l'elettorato, cioè i partiti sono molto nell'otto volante ormai. Si possono fare grandi expluanti ma con altrettanta facilità si perdono e quindi è tutto veramente in ballo e in pentola anche perché andiamo verso mesi difficilissimi, ne parleremo una prossima puntata ma adesso probabilmente a livello di scontento sociale potrebbe esserci un po' una pausa ancora per il momento con l'estate ma è verosimile che dopo l'estate per una serie di motivi, per il fatto che l'estate è anche passata potrebbe scoppiare veramente lo scontento sociale anche perché da qui a settembre vorrà dire che avremo altri tre mesi e mezzo, quattro mesi anzi di andamento economico sicuramente negativo e quindi questo si somma alla realtà. Facciamo una considerazione Gilberto, arriviamo al punto che ti riguarda, tu membro del fronte sovranista italiano, allora l'anno prossimo sarai il candidato alle elezioni, alle comunali, alle amministrative nel comune di Roma. Sì esattamente, il nostro partito ha deciso di partecipare anche a queste elezioni, nell'undicesima in quattro anni a cui proviamo a partecipare perché come chiunque non sta dentro bisogna raccogliere le firme, non sono poche, e farsene convalidare per partecipare. Siamo ottimisti che non sarà un problema, parteciperemo alle comunali di Roma, abbiamo già cominciato a lavorare da più di un mese sia ai programmi a livello municipale perché ci vogliamo presentare anche in ogni singolo municipio, sia al programma più grande per la città, abbiamo cominciato a lavorare gomito a gomito con realtà di cittadini, civiche, associazionistiche di categoria, insomma ci aspetta un lungo lavoro, sappiamo che le difficoltà staranno tante ma siamo convinti di poterci levare qualche soddisfazione. Anche perché la situazione è comunque molto complessa, Roma ovviamente è una città sicuramente difficilissima da governare, io credo che quattro anni fa quando il PD ha perso le elezioni col Movimento 5 Stelle non si è stracciato le vesti perché sicuramente avrà perso le elezioni ma si è tolto una patata dirbollente ancora poco che gli avrebbe fatto perdere ulteriormente consenso e quindi il Movimento 5 Stelle proprio come prima vittoria aver vinto a Roma forse era meglio che vincessi in un'altra città meno complicata e meno difficile da governare, quindi il compito che ti spetta sicuramente è arduo, però bisogna anche dire che come vedi la situazione a Roma? Il Movimento 5 Stelle è abbastanza deluso mi sembra alla fine, no? Allora direi proprio di sì per una serie lunghissima di motivi, ma basta vedere la quantità di assessori che hanno cambiato, segno che qualcosa non ha funzionato ad essere gentili, la quantità di municipi gestiti da loro commissariati, sfiduce, guerre interne, insomma non mi sembra sia andata per niente bene e credo che comunque anche le prossime comunali non ci sarà una corsa dei, cioè ok parteciperanno tutti, presenteranno i migliori candidati, ma Roma lo era 5-4 anni fa, la testa è una patata bollente Carlo, la testa è veramente una patata bollente dove è più facile che ci si bruci ad amministrare Roma che non che si aumentino i consensi, noi proveremo a fare infatti un programma serio calato nella realtà, però facendo due o tre proposte sicuramente che non faranno gli altri in controtendenza rispetto a tutte le forze, sia di centrodestra sia di centrosinistra, si possa anticipare così al volo anche se stiamo ancora in fase di elaborazione, che mentre negli ultimi vent'anni tutti hanno esternalizzato i servizi, mantenendo invariati, aumentando i costi e peggiorando il servizio, quindi non migliorando il bilancio di Roma e mettendo in difficoltà migliaia di lavoratori, per noi le internalizzazioni invece dei servizi e dei lavoratori buttati fuori con le esternalizzazioni saranno un punto qualificante fondamentale. Roma fino agli anni Ottanta aveva 2.200 giardinieri, era la città più verde di Europa e lo è rimasto, oggi ne ha 300 di cui attivi 150-180, beh Roma ha bisogno di altri 1.000-1.500 giardinieri, parliamo in realtà di piccole cose perché non pensate che siano spese di decine di miliardi di Euro, ma sono cose che ricambierebbero l'aspetto di Roma da così a così, solo per affrontarne una minima parte. Avremo poi occasione le settimane, i mesi prossimi, di tornare in argomento, le occasioni non mancheranno di sicuro e naturalmente per essere coerenti con tutto quello che si dovrebbe fare per un comune, chiaramente bisogna portare avanti il concetto del ritorno alla sovranità monetaria perché altrimenti se sottostiamo ai parametri di Bruxelles, come si dice, un sindaco a queste condizioni non fa il sindaco ma fa di fatto il commissario liquidatore del comune che amministra. Dobbiamo liberarci del fatto di stabilità e crescita, cosa che di fatto stanno già facendo, quindi a riconferma che è solo una questione di volontà politica, al di là dell'Unione Europea che è un problema e dobbiamo uscire, forse c'è anche un discorso mentre si aspetta di uscire dall'Unione Europea, non potendoci portare una città, un comune di valute complementari da poter fare, che può comunque alleviare delle sofferenze, delle fasce più basse e soprattutto bisogna ricordarsi che Roma non è solo Roma dei romani, Roma per l'Italia è come la copertina di un buon libro. L'Italia è un libro meraviglioso, stupendo, abbiamo tantissime cose, ma se mantieni la capitale in questo Stato, presenti male il libro Italia, quindi Roma ha bisogno di molti più soldi rispetto agli altri comuni, soldi che non vanno presi dalle tasse degli altri cittadini ovviamente, non devi far pagare al milanese e al siciliano la ricostruzione o l'ammodernamento di Roma, sono tutte spese che vanno fatte, devono essere fatte ma a deficit, cioè mettendo monica. Certo, mi è piaciuta molto la similitudine Roma come la copertina di un bel libro, è la cosa che noti prima di tutto effettivamente. Gilberto, noi ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento con te per venerdì, come di consueto, per la ormai di prassi, di pragmatica ormai analisi politica economica della settimana. Bene, buona settimana a te e con i nostri ascoltatori ci vediamo mercoledì. Buona settimana a tutti e a venerdì.